e benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui come sapete chi vi parla oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video di FICA17 non so dai ragazzi non so perchè ho fatto la intro di nuovo però perchè non so in realtà questo video quando mettervelo perchè ho già un'altra poca con il registrato come ben sapete se non so se l'avete visto prima o già avete visto il video comunque ragazzi per il capitano cinese hanno messo questa school building che dopo credo che mi andrò a fare perchè mi da un pacchetto però ragazzi guardate qua a parte i pack scontati quelli promo c'è questo al primo maxi costare di 15.000 scontato a 7.500 per i pacchetti promo questo 12.500 credit che dovrebbe costarne invece 25.000 questo che dovrebbe costare 35.000 credit scontato a 17.500 quindi la metà ragazzi guardate cosa hanno regalato pacchetto ultimate pacchetto da 125.000 credit ragazzi tutti giocatori 30 giocatori 30 oro 30 rari molto probabilmente staranno non scambiabili ma chi se ne frega noi ora ce lo andiamo ad aprire aiuto ragazzi ci ho paura sto guardando sto guardando sto guardando aiuto sto paura socratis si però è un pacco da 125k che mi dai socratis non ci credo ho trovato un if non ci credo raga che è la prima volta che trovo un if su fifa si però è un pacchetto un po' che valevano ma valevano ma sai come però almeno per in che ce l'ho doppione l'altro lo metto a vendere cioè questo qui me lo metto in vendita però non ci credo raga ho trovato un if perché è non scambiabile sto pack neanche 1400 solo compro dai lo metto a 1000 1200 non ci credo raga però non ci credo non ci credo devo farlo scritto comunque raga che ho trovato un if perché è la suoneria no vabbè oh perché è uscito fatemi tornare qua fatemi vedere gli oggetti non assegnati madonna raga non ci credo ho trovato un if un fottuto if chi è che mi chiama proprio ora va va ambrolo mamma mia raga un fottutissimo if ma socratis quanto varrebbe socratis minchia però raga questo è stato veramente un pack di merda no vai scherzo raga ho trovato un if ho trovato socratis che valeva fatemi andare a vedere hai rotto la minchia ok fancula manca sul mercato socratis mamma mia raga non ci credo che ho trovato un if non posso urlare perché ci sono i miei amici di là che stanno a studiare però ma ma raga ho trovato un if non scambiabile socratis vabbè ma minchia 3600 crediti neanche se lo prendono voglio vedere sto if però quanto vuole alex telles per darmi di bala eh no il filo di puttana alex telles if anzi tiff mega tiff no vabbè dai 16000 crediti proprio buttati così vabbè dai raga però comunque cioè ho trovato un if è vero che me ne faccio disti qua però tutti gli 83 così li posso anche utilizzare per fare delle squad building nel caso uscissero le squad building come si chiamano delle squad building per gif assicurati raga scambiabili anche magari almeno palacio della serie A almeno palacio e filipe ma tanto non li userò mai raga embolo ma sai quanto me ne frega gli embolo e conserviamo tutto nel club mamma mia raga no no cioè io non ci sto credendo non ci sto fottutamente credendo cioè ma avete visto però la squadra della settimana che c'era cioè guardate questa fottuta squadra se anche mi avesse dato di bala magari l'avrei usato mi avesse dato un'altra un'altro forte magari mi sarei venduto la mia squadra e mi ci sarei fatto quella dell'if che mi ha dato però vabbè ho trovato un if erano scambiabili ci ho provato magari anche mi dava Draxler mi dava Rune Hero no però va bene no raga mi è piaciuto troppo no no basta mi è piaciuto troppo neanche scelano il no glue però cavolo di bala eh con l'hashtag di bala mask eh raga io vorrei anche spacchettarmi sti pack da 35k però no sti cazzi e mo raga allora non andrò a fare la squad building challenge quella lì perché l'ho già provata a fare e ho visto che non ce la faccio quindi ora vi farò partire un'altra clip dove ragazzi ho trovato un giocatore che è una vera bomba ora vado a vedere quanto costano vabbè raga non ci credo no raga ho usato 8000 crediti per fare sta sfida e ci trovo l'if che ne vale 20.000 no dai no 14.000 vabbè raga però ho usato 20.000 ho usato 8.000 crediti per fare sta sfida vendo sto scema a 14.000 raga ci ho godagnato mamma no raga vabbè dai cioè sono sculato basta mi ritengo sculato a questo punto ancora devo vedere se c'ho magari tipo delle forme fisiche dei giocatori doppioni che ne so ho ho schippato tutto raga cioè non lo so io raga si c'ho anche una bella forma fisica che mi serve doppioni non ne ho vero si c'ho anche questo qui doppione che me lo vado a vendere si raga ma non avete dato quanto ho urlato ora prima di fare il video mamma mia e raga questo era solamente il primo perché ora arriverà il secondo dove non ho fatto ancora non ho fatto di nuovo una reazione del genere ma ora ragazzi vi mostrerò il secondo no c'è va bene dai un altro if è troppo stavolta quello che mi hanno dato i pack 2 euro più 2 attitudini più partiti altro if il petto vale però 12.000 credit ti basta il 13.000 io ho letto in vendita 11.500 e 12.000 così lo vendo subito ho già venduto anche l'altro questo quanto vale metto in vendita 1.200 quello che ho venduto ora vedo anche l'altro iluminati let's go notin 2.000